Modifichiamo la legge e fermiamo le oligarchie regionali. Con questo slogan, il gruppo DEP Democrazia e partecipazione, che si è formato a Salerno nel novembre 2020 e si occupa di ambiente, cultura, politica, salute e comunità, inoltre elabora idee proposte per una migliore amministrazione della città, ha lanciato una petizione su change.org. La legge nazionale 165 del 2004 è molto chiara, i presidenti delle regioni possono restare in carica solo per due mandati, si legge nel corpo della petizione. Eppure alcuni presidenti, già al secondo mandato, stanno brigando per aggirare la legge nazionale. Dalla loro parte milita il precedente di Luca Zaia, che sta svolgendo il suo terzo mandato in Veneto. Il Lombardia Roberto Formigoni, di mandati ne ha compiuti addirittura quattro, è stato presidente della regione dal 1995 al 2013. Ciò è stato possibile mediante un aggiornamento delle norme grazie agli statuti regionali. I governi nazionali lo hanno permesso perché non hanno fatto ricorso. Anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato di voler presentare in consiglio regionale una proposta che gli permetterebbe il terzo e addirittura il quarto mandato e altri suoi colleghi si apprestano ad utilizzare lo stesso ITER. Noi vogliamo evitare queste furbate, proponiamo una interpretazione autentica della legge 175 del 2004, che può impedire ciò che è già avvenuto in Lombardia e in Veneto. Il regionalismo italiano ha dimostrato in questi ultimi decenni tutti i suoi limiti durante la pandemia. Questi limiti sono stati evidenti e in alcuni casi disastrosi. Le regioni non sono stati autonomi e l'immobilismo delle classi dirigenti è un rischio per le istituzioni democratiche. È venuto il tempo di combattere questo tentativo di costruire e consolidare oligarchie locali inamovibili. Non possiamo più accettare regioni diverse con servizi diversi, questo viola i nostri diritti costituzionali. La medicina territoriale è stata colpevolmente trascurata in quasi tutte le regioni e così trasporti regionali che penalizzano per l'estrema variabilità e inefficienza i pendolari di ogni parte d'Italia. Nel sud il disastro è ancora più grave e invece di superare questi limiti si pensa di perpetuare all'infinito il potere di alcuni presidenti che si comportano come veri e propri satrapi. L'invito dunque del gruppo è di firmare la petizione su change.org.